amici di youtube allora sono sopra il vero sopra il taxi almeno poco fa siamo pronti per partire una puntata nuova nuova di gta 5 lavorare con bruno cioè con me ok grazie taxista grazie grazie a oggi mi godo una bella giornata in montagna lontano da tutti lontano dalla vecchia no mi scusi signore dove va sarebbe signore volete anche lei su di su deve andare su non sa niente ha il spicchi italian capisce capisce ai mi spicchi italian ma non capisce va bene arrivederci pazienza non aveva capito allora adesso andiamo a prendere andiamo a prendere la nostra metropolitana è la nostra metropolitana la insomma la questa questa qua ecco la la insomma la questa non mi viene il termine si chiama la 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 cabina la gabinetta questa la gabinetta qua quella che va su la minetta cabinetto è una stessa qualcosa che ti porta su insomma accidenti ma in natura si sentono dei rumori davvero niente male eppure quella digerita mi sembrava familiare speriamo di no speriamo di no anche se mi perseguita dappertutto io oggi voglio disteccarmi voglio rilasciarmi ecco si guardi allora oggi è la mia giornata libera signora la prego ho già fatto il Mi ha fatto esplodere un airbio, mi ha fatto esplodere addirittura un camion, mi ha fatto esplodere anche tutto quanto, manco soltanto che mi esplode anche questa e poi io sono morto del tutto. Ti ho messo le rotelle alla sua macchina? Eh no, non ci sono le rotelle. Signora, la prego, oggi è la mia giornata libera. Mi lasci in pace! E' la mia giornata libera! Ecco, guardi, qua c'è... Ecco, guardi, ho preso le... Eh, ho preso un frammento, cos'è? Un frammento di qualcosa, un frammento recuperativo. Guardi, guardi, pur di non ascoltarla, mi butterei giù di qua. Guardi, eh, mi butto giù di qua. Lo faccio, eh, mi butto, eh. Beh, pur di... Mi butto, guardi. Maronna, aiuto! Maronna! Stavo scivolando davvero. Che paura. No, 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 no. Eh, no, 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 scappo, scappo. Troppa paura, no, 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 no. Eh, 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 aiuto! Scappa, scappa, scappa! Eh, eh, come faccio? Aiuto, mi sono... Cosa è successo? Non posso più risalire E adesso io come faccio a risalire? Oh, signore Aiuto Ah, ecco, meno male Ecco, meno male Che paura, che paura Che ho preso Ah, signore, non c'è più Meno male, meno male Via, via, via Mi voglio godere il panorama di qua Aspetta Aspetta che adesso arrivo Ah, adesso mi voglio godere il panorama Da fin alto Cioè, guardate, ragazzi Che bel panorama Che adesso andremo a vedere Ah, c'è anche un Bella Salve, signore E' un po' spaventato, vedo, eh Succede qualcosa in questa parte? Vediamo un po' Ah Beh, no Vedo soltanto le moto Ah Qua c'è la città Molto bello Ah, ah Qua c'è il pino Non mi interessa il pino, però Che visual Che visuale Che visuale Si vede un cacchio Cioè, è C'è tutto rotto, sporco Cioè, non vedo niente Non si capisce Eh, la città là in fondo Bello, sì Bello, carino Sì, però Eh, vabbè Eh, ok Niente, via Tirati via, va Signore? 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 Mi sente? Ah, ecco Lei è americano Anche io Cioè, io Cioè, io Non sono americano Però Eh, vabbè Signore È andata Una moto Quasi io la prendo Eh Eh, si potrà C'è Vabbè, la prendo La prendo su Allora, adesso C'è sulla moto Sono sopra la moto Sono sopra la moto Eh, casco Adesso vedrai Io però Dove vado Perché io Non scendo in modo normale Io voglio Faccio la strada Estrime Mi lancio Sono matto Io Signore Eh, sì Guardi, guardi Vedrà Eh Se la farò Caccare addosso Eh Se si tuffa Giù Ma ora Signore Aiuto 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 Maronna Santa Aiuto 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 Ma dove è l'otto Ai 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 Bruno Io l'avevo detto di non fare queste minchiate Eh Dottore Io Io volevo sentito scappare dalla vecchia Santo cielo E se anche voi Volevate scoprire Cioè volevate Non volevate Volevo dite scoprire Che cosa accadrà Nella prossima puntata Mi raccomando Non smettete di seguirmi Alla prossima Alla prossima